in effetti siamo mal collegati però una volta arrivati a piegine si sta nel paradiso io non a caso c'è il cavallo per le strade perché abbiamo solo mulattire non sono strade quindi questo è un appello anche a dover investire anche sulle nostre zone interne che molto spesso sono dimendicate io sto facendo di tutto come vedete la Proloco di farle riqualificare di farle vedere con il cavallo con altri mezzi proprio per farle conoscere perché non ci dimentichiamo che siamo sotto a Cervati e quindi abbiamo il Cervati è uno dei paesi secondo della Campania quindi voglio proprio lanciare un appello a chi ci ascolta anche i politici non di investire solo sul mare ma abbiamo anche nell'introterra che è da valorizzare e anche per chi ci abita insomma da farlo migliorare e crescere. Giustamente l'interesse deve essere fatto non solo dai politici provinciali ma si deve partire dai politici locali o sbaglio? Sì ma i politici locali dico la verità si stanno impegnando stanno facendo del tutto ovviamente ci vuole una spinta anche ecco ecco dei politici che stanno più su quindi invito anche a loro che vedranno questo servizio di ecco di investire sul Cilento perché non dobbiamo essere dimenticati abbiamo tanto da offrire abbiamo tanto da dare a persone che non hanno questi paesaggi questi posti non hanno questa caratteristica ecco Grazie.